Il mio progetto era quello di ritornare a casa perché altrove mi sentivo un po' un pesce fuori d'acqua e allora dopo gli studi di marketing e comunicazione alla Sapienza di Roma a 24 anni ho deciso di ritornare a casa per tramandare il lascito di famiglia ossia quello di essere mugnai quello che vedete a fianco infatti è l'ultimo mulino a pietra del Salento è un mulino secolare che conserva ancora gli stessi graniti e gli ingranaggi per girare con la forza animale all'inizio sono entrato in azienda creando un marchio aziendale e un packaging per poter entrare nei negozi vicino a casa e ora siamo in alcune parti d'Italia ma molto radicati in Salento oltre a questo abbiamo arricchito il nostro progetto attraverso il recupero di alcune varietà antiche di cereali e questo è nato un po' per caso perché appunto mi sono messo a selezionare alla ceca una varietà di grano che vedevo diversa sia nella forma che nel colore lo vedevo rosso e tozzo con il germe peloso mi sono messo nell'ottobre del 2012 a selezionarlo chicco chicco e riprodurre la razza per tre anni al quarto anno quando siamo arrivati in una campagna intera abbiamo iniziato a macinarlo a pietra come vuole tradizione grazie agli anziani del luogo e appunto alla cultura popolare siamo riusciti a capire cosa fosse ossia il mallorca è un cereale di origine borbonica introdotto qui nell'ottocento questo cereale ci ha sorpreso tantissimo perché ha aspetti sia agroalimentari che organolettici molto particolari infatti può essere coltivato in biologico senza l'uso di nessun tipo di disturbante perché lui stesso è disturbante secca tutto ciò che non è grano e ha solo il 6% di glutine e molti ipersensibili appunto al glutine riescono a mangiarlo senza problemi abbiamo poi allargato il progetto dei campi sperimentali ritrovando altre varietà ad esempio una varietà la carosella abbiamo trovato tre spighe in un campo abbandonato in mezzo al paese di Marittima a fianco ad una spiga di Mallorca e ora quel grano lo stiamo riproducendo come anche altri grani che raccontano tutte le epoche storiche del Salento dai turchi tramite la russarda la capinera o appunto la carosella d'epoca romana il Saragolla arrivato dall'Africa il progetto non so quando si concluderà forse si concluderà quando finirà la memoria degli anziani quando non ricorderanno più i grani come il San Pasquale o il grano duro di Lecce allora potrà finire perché si è persa la memoria ma finché c'è cultura finché c'è memoria c'è speranza per questi grani io non avrei mai immaginato un futuro diverso da quello che ho adesso appunto nella mia terra con la mia cultura è stato è stato un gesto sicuramente molto carico di passione e di amore verso la mia terra guardandomi indietro a cinque anni fa non avrei mai immaginato di raggiungere una soddisfazione tale magari all'inizio vedevo amici che se ne andavano io faccio parte di una committiva di 20 ragazzi sono rimasto l'unico in Salento a promuovere il territorio o comunque a fare qualcosa come lavoro gli altri sono andati o all'estero o fuori e anche questo insomma mi fa sperare bene perché se qualcuno si vuole applicare per fare cultura e per poter lavorare sicuramente il Salento e la Puglia in tutta è un campo florido un'economia viva se si trova quello che si vuole fare con la giusta passione un'economia viva un'economia viva